Lo scorso 24 febbraio erano giunte le denunce, ieri sono invece scattati i provvedimenti d'ASPO di vieto d'accesso a manifestazioni sportive a carico di 18 tifosi della squadra barcellonese di calcio dell'Igea Virtus, individuati come responsabili dell'aggressione ai tifosi della squadra della Tiger Brolo, avvenuta lo scorso 10 novembre presso l'area di servizio Kuwait di Santa Teresa di Riva lungo l'autostrada 18 Catania Messina. I provvedimenti d'ASPO della durata di 4 o 5 anni sono stati notificati ai soggetti riconosciuti grazie alle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio che hanno preso parte materialmente all'aggressione ma anche a quanto sembra ad alcuni che si trovavano solo al seguito del gruppo. Durante gli incontri dell'Igea Virtus i tifosi raggiunti dal provvedimento di DASPO dovranno presentarsi in commissariato per la firma. E' stato il lavoro di indagine effettuato dagli agenti del commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto che ha permesso di risalire ai protagonisti degli scontri avvenuti lo scorso 10 novembre. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine i tifosi dell'Igea Virtus si sono incrociati presso l'area di servizio con i supporter della Tiger Brolo militante nello stesso campionato di eccellenza e provenienti da un'altra trasferta. I brolesi sono quindi stati fatti oggetto di aggressione con cinghi e catene. Tra le vittime anche un minore percosso alle gambe con una catena metallica ed una ragazza che è stata colpita con un pugno al labbro superiore. L'aggressione si consumò all'esterno del bar dell'area di servizio poi i supporter della Tiger riuscirono a rifugiarsi all'interno del bar. Anche lo stesso esercizio commerciale è stato quindi fatto oggetto di lancio di oggetti. Anche lo stesso esercizio commerciale è stato quindi preso di mira con un lancio di oggetti. Con queste motivazioni le 18 persone raggiunte da DASPO erano già state denunciate per i reati di percosse, lesioni aggravate e rapina aggravata in concorso.